Ciao a tutti, io sono Claudia e mi sono laureata all'Università dell'Insubria in scienze della mediazione interlinguistica interculturale, con specializzazione in lingua inglese e lingua tedesca. Oggi sono Junior Product Manager presso Arzana e in particolare mi occupo dello sviluppo di nuovi giocattoli Chicco. Il percorso di studi fatto mi ha permesso di sviluppare ottime competenze linguistiche, grazie alle quali collaboro tutti i giorni con i miei colleghi da diversi paesi del mondo. Inoltre studiare lingue dà la possibilità di sviluppare un pensiero critico e una mentalità aperta. Non mi resta che salutarvi e farvi un grandissimo in bocca al lupo!